Musica Incidente oggi, mercoledì 23 maggio, poco dopo le 15 in via Miniere, al confine tra i comuni di Vre e Banchette. Un furgone Peugeot Partner ha investito una donna di 54 anni che a bordo della sua bicicletta si stava recando al lavoro e poi ha terminato la soccorsa contro la vetrina di un negozio. Sul posto sono subito intervenuti il 118 e la polizia. La donna, subito soccorsa, è stata portata d'urgenza all'ospedale di Vrea. Musica